Ed eccoci con il nostro Danilo Ameio, ovviamente sempre con l'inossidabile coppia con Massimo Marinotto. Com'è andato Danilo? Questo Sanremo difficile quest'anno, pesante. Difficile per le condizioni soprattutto di oggi, della seconda tappa, che piove, non piove, nebbia, era difficile per quello. Noi siamo contenti perché abbiamo fatto una buona gara e soprattutto abbiamo tenuto un passo rapido tutta la gara, che era un po' il nostro obiettivo. Siamo riusciti a fare noni assoluti, i secondi dei due ruote, insomma bene, direi bene. Non ce l'aspettavamo, anche perché il 106 è una macchina vecchia e tenere il ritmo per due giorni di gara alto come le macchine del giorno d'oggi, insomma le macchine moderne, i ragazzi del giorno d'oggi è tutto, allenati è tutto, siamo contenti. Assolutamente, assolutamente, bisogna parlare un po' con papà Ugo, magari pensare di cambiarla questa macchina Danilo, tenendola però sempre, guai. Tenendola ci possiamo pensare.